Ehi Al, te la fai una partita? Una partita, eh? E dimmi, ce li hai i soldi? Per giocare, dico. Ce li hai? Come volessi giocare poi? Sette e mezzo? Hai perso. Se non vuoi giocare a briscola? Ah no. Li perdi pure. Se non scopo? Ah no. Li hai più provato sorella. Specialmente con l'asso di mazza. Dai, non fare con la faccia. Lo sappiamo tutti che a scuola la chiamavano bocca di rosa. Perché metteva la bocca sopra ogni cosa. Non è colpa mia. L'hai cresciuta tua? Ho sbaglio, eh? Comunque, dimmi, come vuoi giocare? E soprattutto ce li hai i soldi? Non come l'ultima volta che mi hai pagato a panelle. Mi stava vedendo la castrite. Solo perché mia sorella ha la passione di spezzare banane. Non ti permetto di parlare così di lei. Hai capito? Minchiate. E comunque, dato che non vuoi giocare in questo posto di merda, ti propongo una cosa. Vediamoci a Borgonovo domani a Palermo. Si può fare. Però ti sto avvertendo. Se mi vendi per il cuolo, ti porti i cannoli siciliani. E non ci finiranno nel tuo stomaco attraverso la bocca. I cannoli le voglio che ricotta. Non ci finirà. Grazie a tutti.